Salve amici, salve a tutti, veniamo anche brevemente, commento al caso di Alice Neri che anche se non presenta novità sostanziali, però noi siamo qui per ragionare, per avere degli spazi di critica e vorrei iniziare riflettendo sul fatto che da più parte leggo che la macchina di Alice fosse stata abbandonata lì in un posto deserto conosciuto da nessuno e che quindi fosse conosciuto soltanto da questo tunisino. Però vedete, mi sembra che non sia proprio vera questa cosa qua, non sia proprio vera, perché questa via Ducale II, almeno si dicono le persone che abitano più o meno in quelle zone, è raggiungibile da ben sette accessi, quindi non è affatto comunque isolato. E' un posto dove notoriamente veniva anche usata da coppiette che si appartavano essendo comunque una zona comunque di poca frequentazione, ma molte coppiette sapevano questo posto, conoscevano questo posto e lì sono state trovate alcune cose tipo usate anche un po' incivilmente come un po' una discarica, si portavano delle cose che non si usavano più e che magari invece di portarle dove bisognava smaltire, si portavano là, addirittura c'era anche un'altra macchina abbandonata, prima di quella di Alice, è andata alle fiamme. Era un posto dove di giorno ci stava chi veniva a pescare in quel fiumiciattro, quindi abbiamo anche quella, l'amica diciamo di Galù che lo testimonia. Quindi diciamo che non è che stiamo parlando di un qualcosa che potesse conoscere, una sola persona. Quindi detto ciò, voglio riflettere anche su quell'affermazione fatta dal cosiddetto terzo uomo, questo famoso collega della WAM, che dice si preoccupa dicendo se avevano qualcosa contro di me, dice io ho cancellato tutto perché poi se avevano qualcosa contro di me, questo pezzettino di frase a me ha fatto rizzare le antenne, diciamolo così, perché c'è un plurale, perché se avevano qualcosa contro di me? facendo intendere che più persone potessero avercela contro magari Alice, ma indirettamente anche contro di lui, cioè faceva un collegamento fra la fine di Alice e queste persone che potevano forse avercela anche con lui, quindi il dubbio è che possiamo immaginare che intendesse qualcosa quindi inerente all'azienda? forse per questo che non ne parla nemmeno Marco, perché Marco analogamente non riferisce il contenuto delle sette ore, forse per lo stesso motivo di quest'altro amico confidente? se ben ci pensate, per quale motivo al mondo lui cancella tutto di Alice, questo confidente diciamolo si, cancella tutto dice, anche il numero, non nemmeno più neanche il numero di telefono, non volendo che qualcuno potesse risalire a lui tramite ricerche telefoniche o addirittura tramite web, ma perché questa cosa di voler assolutamente cancellare tutto appena saputo, diciamo la notizia appena avvenuto il fatto, io dico se la sua era una semplice vaga preoccupazione, diciamo di una gelosia di qualcuno, non aveva nessuna ragione diciamo di cancellare tutto dal momento che alla fin fine, se così lui era solo l'amico dell'azienda e forse quella notte poteva provare che stava come doveva stare con la compagna a casa sua, vedete sono cose che fanno pensare, altra stranezza più o meno, la stessa cosa diciamo, la fa Marco se pensate c'è un parallelo fra questi due, la stessa stranezza la fa Marco che cancella tutte le conversazioni, cancella l'amicizia sui social con Alice, quindi fanno la stessa cosa in effetti, perché? Perché fanno la stessa cosa, addirittura Marco poi non risponde nemmeno più ai familiari eccetera, quindi come mai? Ve lo siete mai chiesti amici miei, voi ve lo siete mai chiesti perché questa cosa qui? Come mai? Che significato aveva che entrambi, Marco da una parte e diciamo il cosiddetto confidente dall'altra avevano nello stesso momento, cioè nella giornata di venerdì, nella mattinata di venerdì, avuto l'imperlente necessità di cancellare tutto e di più della loro conoscenza, ecco con Alice, di contatti telefonici, whatsapp, di social, qualsiasi e ricordatevi anche che il marito Nicolás dice che dalle sei e mezza faceva le telefonate che venivano despinte come se ci fosse l'assassino, gli assassini che magari stavano maneggiando quel telefono di Alice come despingeva le telefonate forse perché stavano cancellando a loro volta qualcosa, è possibile che bisogna arrivare a pensare questo? Quindi ci si domanda cosa poteva accomunare questo terzo uomo confidente e Marco? Erano colleghi, senza altro, questo li accomunava, erano colleghi, ma ci poteva essere altro, qualche altro segreto, c'era un segreto non solo dell'azienda o magari un segreto legato a cosa? Voglio fare un'ipotesi, forse all'uso di stupefacenti, legato a fattori economici, a soldi non pagati, qualcosa del genere. Ora perché dico questo? non solo l'azione giusto per dire tanto perde, perché scusatemi ma se io adesso io non voglio ecco vengo a sapere che è stata uccisa una mia carissima amica, una mia cara amica, non è che lo vengo a sapere e mi viene in mente, in mente di cancellare tutto di lei, tutto, le chat, i social, il numero e non rispondere a nessuno più dei familiari. Perché lo dovrei fare? Per quale motivo? Se avessi ecco la coscienza pulita, a posto. Lo farei soltanto se mi sentissi compromesso in qualche modo con quella mia amica e quindi temessi per conto di questa compromissione, temessi di essere scoperto, di essere coinvolto perché c'ho qualcosa che mi unisce a lei in qualche modo. E allora, vedete, perché dico questo in attesa dell'incidente probatorio sempre, che rialvolgendo i nastro questa donna viveva questo periodo di conflitto interiore, di crisi con uguale, aveva costeggiatori più o meno pericolosi nell'ambito lavorativo. Quel pomeriggio è un pomeriggio frenetico, c'è qualcosa di grosso da chiarire, tanto che incurante del fatto che sappiamo che il marito e il fratello, nonostante che lei sapesse che il marito e il fratello hanno la geolocalizzazione telefonica, lei va dove deve andare senza problemi, senza farsi problemi, accampando diciamo addirittura una scusa con il marito per dicendo di andare altrove. E poi va lì a tutti i costi, stando con Marco sette ore, ricordate, e si dice che, per quanto riguarda l'amico confidente, che lui l'aveva già controllata, era passata in qualche modo già per quello smart caffè a concordi quando lei era seduto con l'altro ex collega Mohammed che lavorava nella fabbrica dove dove stava lei in precedenza. Ma vedete che intreccio diabolico di quella giornata, almeno di quella giornata parliamo. E questo signore, questo confidente che passa di lì a guardare, a controllare, è, vi ricordo, lo stesso, non solo che ha messo quel famoso post, ma lo stesso che nella lettera scrive a un certo punto, un giorno, smetterò di pensarti nel cuore della notte. Smetterò di pensarti nel cuore della notte. Vedete questo pensiero ricorrente, questa ossessione ricorrente a lei, quando? Proprio nel cuore della notte. E loro stavano nel cuore della notte. Allora in questo scenario, vedete, così inquieta, inquieto, preoccupante, all'improvviso. Ecco che si appalesa su una bici un ragazzo tunisino che arriva allo smart caffè, sta lì una mezz'oretta, gioca o non gioca, poi chiede candidamente un passaggio da lì, sale in quell'auto, ne abusa, la uccide, poi la brucia assieme alla macchina. Dopodiché se ne torna a casa. Ora, tutto può essere, vedete, io trattando casi di cronaca da tempo, ma anche quando non avevo il canale, ero un appassionato uguale, tutto può essere nella vita. Però è singolare che ciò sia avvenuto, come può essere avvenuto, in un contesto così preoccupante che stava attorno a questa ragazza, per non parlare di queste due macchine che verso le 5, le 6 di mattina giravano in quella zona e che entrano in via Mazzalupi, non ne escono e quindi passano inevitabilmente per dove stava l'auto di Alice. Allora, tutto può essere che sia banalmente avvenuto solo così e che tutto il resto non c'entri nulla, ma a me sembra che ci sia qualcosa che non torna. E non vorrei che il tunisino fosse la soluzione ideale per tutti i mali. Lunedì, nel corso dell'incidente probatorio, ci saranno sicuramente elementi importanti che daranno maggiore luce, si spera almeno. Però voglio ribadire ancora una volta, come ho detto all'inizio, che parlando con qualche persona che è della zona, che quel posto comunque, dove è stata ritrovata la macchina di Alice, di giorno è frequentato, è accessibile da diverse strade, con coppiette che si appartano, con persone che vanno a pescare, e chi è della zona lo sa, quindi volevo sfatare, ecco, questo tabù del posto misterioso di Via Dupale II. Poi, per il resto, può essere pure che tutte queste ombre, questi dubbi, queste macchine, queste ossessioni, non c'entrano niente, questo fatto di cancellare tutto, i numeri, le chat, le cose, appena uno sa che l'amica è stata trovata mostra, si cancella tutto e di più, qualsiasi traccia, può darsi che non c'entri niente, e che c'entri solamente il tunisino che arriva, sale casualmente nella macchina senza conoscere questa Alice, e la vede, ne abusa, però dopo abusare, dopo che ha fatto tutto, però sente l'istinto di ucciderla, di bruciare tutto e di tornare a casa. Bisogna andare fino in fondo perché forse qualcosa non torna. Quindi in attesa di lunedì, io vi ringrazio ancora una volta, e vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando sempre di seguirmi, di non farmi mancare il vostro sostegno, i vostri commenti, perché per me sono molto importanti, io sapete vivo sostanzialmente del vostro affetto. Ciao a tutti, alla prossima!